E allora ci siamo svegliati in questo cunicolo Un po' troppi, un po' troppi cunicoli Infatti tanto per cambiare cunicoli Sì, sì, sì Sempre non capiamo dove ci troviamo Ora, in tanti di voi stanno apprezzando questa serie In tanti? No ragazzi, non la sta seguendo nessuno, dobbiamo dire la verità No, quelli che la stanno seguendo la stanno apprezzando Noi la portiamo lo stesso perché tanto ultimamente Youtube è diventato di nuovo un hobby come era qualche anno fa Visto che non fa guadagnare un euro Tanto vale che portiamo qualsiasi cosa Anche che facciamo una views Almeno ci divertiamo Cosa sono queste cose? Io secondo me mi devo aggrappare È ovvio che ti devi aggrappare, ma sembrano corpi Cioè si muovono Sì, sono corpi Ma ci sono delle scarpette a terra, scarpette rosse Sì, non sarebbe male mettersi delle scarpette Visto che questa bambina... Comunque... Noi stiamo dicendo bambina A me questa bambina non me la racconta giusto Sono dei vermi innescati Sono dei vermi che sono innescati in degli ami Cioè praticamente sono delle esche Per pescare? Ma in una maniera alquanto esacerbante In una maniera alquanto discutibile Che in realtà sono dei corpi avvolti In quelli che sembrano degli involucri simili al bozzolo dei vermi Mamma mia, ma fa impressione tutti sti... Però ora qui sono fermi Sono morti Sì Cioè se vogliamo dire... Vediamo, vediamo Ha fame di nuovo Io posso fare delle annotazioni? Certo Cioè secondo me questa cosa di avere fame Come dire... È accessori al gioco in una maniera Assolutamente talmente lineare Che non apporta nulla se non alla narrazione stessa E poi soprattutto ogni volta che lei ha fame trova il cibo E questo voglio dire Cioè è una maniera talmente lineare Che praticamente ti fa soltanto... Ecco adesso lei mangia un topo Dalla carne cruda al topo vivo Quindi ci fa capire insomma che alla bambina non si fa tanti problemi Adesso mi sta piacendo questa bambina Prima mi faceva cagare Devo dire la verità Aspetta vediamola In faccia sembra... Sembra una bambina normale Non la vorrei mai come figlio Non lo so però sai com'è A proposito di figli lo diciamo? Niente Non vi spaventate Allora Era una trollata ragazzi Non ci sono questi cazzo... Allora secondo me questa cosa lo devi buttare a terra Era così Ecco è un gioco abbastanza prevedibile Sì vabbè ma questo anche Inside eh Non è che adesso se vogliamo paragonarlo Perché sangue? Ma perché no? Cioè tu un'altra Perché no? No perché lo so che ora ci sono quei mostri giganti Questa è una cucina? No Sì Sembra una... Sì un banco delle ordinazioni Da cui dovrebbe affacciarsi il barista o quello che è Intanto ci affacciamo noi Ok c'è questa... Come dire... Vai metti un po' a sinistra Sì appunto Beh spingilo verso il coso e basta Ok adesso sono molto più... Come dire... Ehm... Più arrogante nei confronti di questo gioco Perché lo sto studiando più come gioco che come storia che mi sta narrando Perché la storia che mi narra... Cioè è abbastanza evidente che si tratti di un non incubo Ehm... Non lo so Però è abbastanza evidente che si tratti di qualcosa di diver... Ok Ok Vabbè se passi piano piano dietro Guarda salami, pesci E' abbastanza evidente che si tratti di qualcosa di diverso da quello che è adesso Va bene? Lo diciamo così? Ok lo diciamo così E' un attimo Perché Hai fatto bene O forse no No hai fatto benissimo Questo ne ti avrebbe preso Allora ragazzi qui a livello artistico è bellissimo Questo devo dire A livello artistico questo gioco è bellissimo Sì è vero Anzi siamo contenti di aver preso la Collector's Edition Perché comunque Questo gioco poi sia come sia Secondo me è una piccola pelle Ma vai vai corri Adesso che lui è lì? Adesso girerà Sì i movimenti suoi sono tutt'altro che Ci sono i cosi No dai il nomino mi ha fatto rumoreggia Ma questo non sembra avere i sensi di quei dei calzolai che abbiamo visto prima Li definisci calzolai eh? Li definisco calzolai perché fanno le scarpe No facciamo le bambole non le scarpe Non le bambole Quindi i bambolai I bambolai E vai a destra a destra C'è sempre quest'occhio presente nei simboli Noi sì 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 Vedi anche nella bocca di pesce Il simbolo di illuminante Mmm serve una chiave Ci manca ci manca la chiave Attenzione perché io direi di potermi arrampicare qui Ma non sono sicuro che non mi veda il grassone Non ti ha visto però attenzione Si muove tutto in maniera molto pericolosa Precaria Ok Raiden Ok Adesso una cosa che non ho capito È se l'equilibrio è messo in discussione Dal fatto di poter andare da un estremo all'altro Di zone appunto così Come dire pericolanti Eh infatti sì Infatti sì Non c'è una sorta di muro invisibile Però vabbè È fatto benino insomma Io sto procedendo di qui Ma come dire A tentoni Cercando di prendere quella che potrebbe essere una Una chiave Ma non troviamo niente Se non teste di pesce mozzato Ma perché dovrebbero essere qui i pesci? Ritorna la verticalità anche ingiustificata? La verticalità c'è sempre È irrealistica Vabbè e questo ci sta Ok Quella ti sembra una chiave o un gancio? È un gancio È un gancio Qui c'è la chiave o no? No No Perché due gabinetti? Cioè perché dovrebbe esserci due gabinetti attaccati? È una casa Questa guadè È so weird C'è una leva lì L'ho vista sì Però Oh guarda questo Questa teiera sul termosifone Questo armadio così allungato Sì 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 In maniera onirica È tutto allungato in maniera onirica direi Però Ok Effettivamente Cosa succede? Ah Oh cioè Si è spostato il Sì 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 L'ascensore Pensavo si stesse spostando tutta la casa Sì infatti Tranne l'ascensore No anche a me ha dato questa sensazione Allora Siamo C'è una verticalità È vero Una verticalità assolutamente Non messa in discussione Ma ha anche una profondità Che per esempio un inside non aveva Ragazzi Siamo tornati indietro Il paragone con inside Duopo Ormai abbiamo tentato di evitarlo Ma in realtà Ti ha riportato all'inizio Ok praticamente è una scorciatoia Cioè in buona sostanza Possiamo proseguire di qui No No devi rifare tutto Ah no è vicisi Ah no ok Praticamente devi trovare la chiave sopra Sì E poi girare qua Cioè sarà qui la chiave Anche se mi piacerebbe sapere Come mai Secondo voi Questa è una chiacchierata Che nel frattempo facciamo con loro Perché abbiamo visto Che sono molto partecipi Quei pochi Che stanno seguendo la serie Che poi ho notato Che la state seguendo in pochi Da tutti Gli altri youtuber Ho visto anche I gameplay di Ciccio Di altri Tutti stanno facendo poche views Perché ce lo stiamo dividendo Questo gioco Ma vorrei capire da voi Come mai Secondo voi Inside invece Ha tirato così tanto Forse perché siamo stati Bravi a portarlo proprio al day one Sì siamo stati i primi Praticamente Invece questo già Sì sì Accendi la luce Secondo me c'è uno che dorme Certo che c'è uno che dorme Mamma mia Io non l'avrei sfidato Con la luce Però secondo me Ecco si arrampica di E ce lo sapevo È certo che sì La chiave La chiave L'ho vista Eh ho visto Però non possiamo Noi Attenzione perché qui Vada per l'illuminazione Ma ci vede A meno che non sia scemo E potrebbe esserlo E se io buttassi a terra No no Non scende Non scende E se io buttassi a terra La valigia Ok Sento battere Vibrare il dual shock Come un battito di cuore Cioè questo significa che lui ti ha scoperto Sì Può essere Aiuto Come facciamo a saperlo Eh sì Diamo per scontato Che mi abbia scoperto Perché ho fatto un casino Del Sì infatti Però non ti può raggiungere qui Ah ok Non si arrampica neanche qui Mmm Sì si è pure alzato Cioè si è alzato Vediamo Non c'è Oh se ne Ah acceso Lui la luce Dov'era la chiave? È appesa sopra Cioè qua non ci arrivi Anche se sali qui Come fai? Ah tu dici O ci arrivi Ah ci arriva E dondola lì Ci dondoliamo Dai 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 E ce l'abbiamo fatta Ok è tutto molto interessante Però secondo me adesso arriva di nuovo Di nuovo lo studio Eh ma c'è il cattivone E se noi ci mettiamo qui Attenzione Ma lui può essere che se ne sia andato Posso dire una cosa Tra l'altro a proposito dei miei incubi Mmm Che quando ero piccolo Io non avevo mai incubi In cui io Subivo Cioè avevo sempre incubi In cui io facevo del male Nelle altre persone Per esempio Mi sognavo spesso di staccare La testa A miei compagni d'asilo No non sto scherzando E' una cosa assurda ragazzi Sono malato Che dici? No no Beh secondo me capita Io per esempio Uno dei primi incubi Che feci quando ero piccola Riguardava il Il fatto di uccidere mia madre Ok Siamo due fottuti malati Questo è quello che fanno i videogiochi No mi svegli Mi sono svegliata E ho pianto da morire Tutto il giorno E ancora adesso me lo ricordo Perché è stata una cosa traumatica Se posso dire la mia Il giorno dopo aver sognato Questa cosa macabra Di questo compagno Che si chiamava Enrico Mi ricordo pure E che era carino pure Era indifeso Gli offrì pure le caramelle Perché mi ero impressionato nel sogno Invece Diciamo Qui abbiamo a che fare Con incubi In cui dobbiamo sempre Nasconderci da mostri Che è una cosa Che ripeto A me non è mai capitato Piuttosto Me lo sono immaginato Quando ero al buio Da piccolo Mi immaginiamo che ci fossero i ladri Sotto il letto O no E beh quello sempre Quello sempre Non è normale Ok dobbiamo andare per forza All'ascensore Chiaramente Dovrebbe attivarsi da solo Quindi dobbiamo rifare Il percorso della cucina Sì però adesso abbiamo la chiave Oh c'è un nomine Allora per adesso ignoriamoli No no per adesso ignoriamoli Alla grande Bellamente Anche se poi magari si scoprirà Che avevano un ruolo fondamentale Nella storia Ignoriamo anche questi cali di frame Che dici Ignoriamo anche i cali E qua E qui il ciccione grassone maledettone Ma cosa sta cucinando Sono classicce Posso dire una cosa Sembra la madre di un amico mio Come la madre di un amico tuo Da dietro è uguale E allora è dietro questo tramezzo Però non so cosa stia facendo Questi tramezzi no Vedi come la visuale in realtà Non è introspettiva Siamo noi a vedere tutto Come hai detto tu l'altra volta Come fosse un set Cazzo Sì non l'ho inclusa quella parte nel montaggio Secondo me Tu l'altra volta hai detto Che è come se fosse un set Sembra un set Perché appunto No vediamo una sezione Dell'ambientazione Non vediamo tutta l'ambientazione Oh cazzo No 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 È velocissimo No 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 E cosa fa lui? Ci mangia? Non si vede mai Cosa dall'inizio? No è la chiave Questa cosa Oh Un nomino Almeno uno lo abbiamo abbraccio Ma lo abbraccio o lo strangola? No lo abbraccia Ok ci ha fatto ricominciare ma no No cazzo Ci riproviamo Ci riproviamo Siamo qui Queste bistecche succulente Che probabilmente sono di uomo Uomo Però ci sono anche pesci Quindi Pesci di uomo Non sono pesci di uomo Quelli cosa sono? Avanti Quelli cosa sono? Sono sassicce Sassicce Sbrigati perché E lui non c'è qua Eh ma verrà E verrà però Se aspettiamo viene Cazzo eccolo eccolo Ok Per adesso lui No Ti prego Ti prego Oh Oh ma che carino però In faccia Ma come carino Fa schifo Allora Non passare adesso Non passare ad Comunque hanno una maschera Che non mi si dica di no Ma è come se indossassero Una pelle Estranea Alla loro Conformazione Non so dirti Non so dirti Io direi di procedere A passo Piano piano Ok vai 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 Quei copertoni Che ti trovi Al posto delle braccia Jesus Ma perché i nomini Non li sente? Questa è discriminazione Di Non lo so E come no? Si però c'era il mestolo Eh ma lo vedi Ok vai sbrigati Sbrigati Curra curra Ok sali sali Dai 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 Ok ci siamo arrivati Attenzione Lui non sale qui sopra vero? Speriamo di no Eh non sappiamo Spingi spingi Meglio scaringi Lasciamo perdere Questo è un jingle Di un negozio Qui Di Catania Ma veramente Pessimo No veramente Era nazionale Si Il jingle si Ma il negozio Era solo a Catania Ah si E quella colta Perché la salsiccia? Appunto Quella mannaia Non si può usare Mannnaia a chi dico io Non si può usare Per ammazzare il ciccione Il ciccio Pasticcio Ma lei non ammazza nessuno Semmai lo farà alla fine Io ho il presentimento Che tipo lei sarà tipo Il male incarnato Perché sei passato da qua? Ah perché hai chiuso la porta Perché no? Oh ma questo è il Cos'è? È quello che permette di Alle vettovaglie Di salire e scendere Da uno stesso appartamento C'è per esempio In un bar Zafferana Sì sì ho capito Sì sì Noi nel frattempo Parliamo con riferimenti Assolutamente locali Di locali Ecco questa è una sala frigo Dove sono contenuti Resti di carne Sospettissima Ma allora Leva quella Quella botola lì Mi dice qualcosa Sì sì Se noi leviamo Questa coppa Questa Che che è? Sembra proprio coppa Effettivamente Che in catenese Significa anche Botte Sì Cioè dare botte Dare coppa No Secondo me non succede Non la posso levare Non sembra La porta Non la spinge E allora in quella botola E se noi Prendiamo questa botola Ah ok Ah va beh Semplicemente Certe volte la soluzione Più semplice È portata di mano Ma non ce ne accorgiamo subito C'è la bambola Voodoo Ok abbiamo la bambola Forse questo era proprio un extra Sai? La rompiamo La rompe con una Con una veemenza Pari a una mosca Di 3 grammi Sì mi sa che No Un topo muscolosissimo Sembra splinter Delle tartaruganiglie C'è un nomino morto? Eh beh Non ti può riempicare Lo puoi solo guardare Ti lo fa solo guardare Eh ho capito Che me lo fa guardare Però Cioè Insomma per dire Guarda qui Ma non puoi fare niente Mmm Non mi arrendi No no Non puoi E invece mi devo arrendere Sai? È proprio una cosa Che tu devi vedere E basta E vado di qui? Non c'è niente Ok torna indietro Quindi tu dici eh Magari posso spingere la porta No ma che me ne frega In effetti c'è Ok direi di tornare indietro Questo secondo me era tutto un extra Torna proprio Non mi convince come extra Cioè tu dici la bambola e basta Sì Torna dove eri Bene Chi attiva tra l'altro Questi congegni meccanici? Perché in teoria dovrebbero sapere Che c'è qualcosa dentro Per poter poi Ma noi ci facciamo troppe domande Ma infatti Ok sali sopra Sì Questa manovella Ragazzi Però a livello artistico è bellissimo È bellissimo A livello artistico Per certi versi superiore Diverso Ah no no Questo è un macinacarne Che schifo Quindi prima dobbiamo fargli arrivare la carne Suppongo Vai Ok adesso Ah è quella di sopra E quindi Adesso la macina Devi fare un cumulo di carne Per arrivare la sopra Una sarsiccia Vediamo Ah no Ti è semplicemente la usi per arrampicarti Per dondolarti Per dondolarti Ne devi fare ancora Premi? Ma non ce n'è più E quindi la devi andare a mettere Ma non mi dire È di una complessità Eh no c'è pure la No ma non c'entra niente Ma che ne sappiamo Prendiamo tutta la carne possibile Guarda che schifo No vedi non ce n'è Però quest'altra 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 carne che c'è qui sotto Ah qua guarda Quindi c'è E secondo me ce ne serviranno tre Inclusa quella che è là sopra Che ne dici qui? Ce n'è una sopra Non l'ho vista bene Anche questa la puoi fare Allora questa è pure più abbondante Questa è più gigante O forse ci ricordiamo male La sopra dove l'hai vista? Ah quella lì Esattamente quella Ehm come si può Non lo so Vediamo un po' Ok saltiamo Vai Fatto Trita trita Ah Se salti non ci arrivi adesso Secondo me ce ne vogliono tre No infatti Prendiamo Ok ora Prendere quello Non è Ah beh si è facile Sali su questo mobile Si Si e poi Dondonarmi fino a là sopra E fare cadere Perché si tratta tutto di fare cadere Wow Che movimento ho fatto Si ti arrampichi prima su sto coso Vai Vai Ah Ti prego Cadi lo stesso Niente da fare No comunque ho perso la presa io Ho sbagliato io Si 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 C'è freddo perché lei Emana Ok 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 Oh wow Ce l'abbiamo fatto Ok secondo me sono tre proprio Si 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 capiva insomma In effetti era troppo una nuova ambientazione Per poter essere solo un extra Ecco Esatto Come se giocassimo i videogiochi da ieri Infatti Infatti tu stessa ti stavi rendendo conto Perché questa sovrabbondanza di location per un extra Mi sembrava strano Ok adesso l'ultima salsiccia Ok fare il level design di questo genere di giochi Non è facile in realtà Potrebbe sembrare più facile di altri giochi Invece no Perché deve essere tutto esattamente calcolato Anche se Oh Vabbè Ha corretto il tiro Ha corretto abbastanza il che ne sono grata Però non è bellissimo da vedere Devo dire la verità Non è bello da vedere no Potevano fare che semplicemente la salsiccia fosse Se fosse stata più lunga sarebbe stato possibile Fare un salto più netto Esatto Ok Ancora cunicoli Cunicoli Cuniculà tra l'altro Cunicoli Cunicula Ok ancora cadaveri o quello che è Sono cadaveri Tra l'altro erano innescati in un amo come se fossero Ok il fatto che ci sia questa sorta di trappolino qua Mi fa pensare che dobbiamo nasconderci Mi fa pensare brutte cose Brutte Ma brutte 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 Cosa c'è qui? Brutte che potevo rimanere offeso proprio Poi bagni continuamente Chiavi non ne abbiamo Che prendi l'ascensore Ah ci vediamo Guarda Esatto Non avevo capito che non l'avevo visto Chiamano l'ascensore Rimani appeso Rimani appeso Eh no eh no che è appeso mi vede? Vediamo facciamo come dici tu No perché gli sei passato avanti ma non si è accorto di te No Quindi dobbiamo venire a nasconderci qui Quindi chiamiamo l'ascensore subito ci andiamo a nascondere lì E' chiaro E' chiarissimo Quindi tu dici non di rimanere appeso ti vede? Assolutamente no Ok Non so che non ti ha visto Dai dai controlli Non ti ha visto proprio Ma se io mi metto qui è ancora più protetto Ti ha sentito però Non ti vede perché è un cretino Non è come quello il calzolario Perché hai il grasso Ok vai 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 adesso Oh no 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 Oh gee Oh mio dio Don't do it Cosa sta facendo Raiden Cosa prende? Ma io scappo adesso Formaggio che carino Però credo sia salito Soltanto per approvvigionarsi di questo formaggio Questa c'è la frigorifera Quindi probabilmente se ne andrà Oppure no Ma io nel dobbio Me ne vado così Ok lui mi ha visto Ma tanto io Adesso scatta Vai Grande grande Molto bene Non era difficile in realtà Oh Avremmo dovuto portare con noi qualcosa Che lì vedi che c'è Vabbè ma no no Secondo me la prendi da qua a destra Ok Cioè questi sono questi suoni inquietanti Sì mi sta seguendo qualcuno Quindi probabilmente questo qua è soltanto Ok stai fermo stai fermo E spengo pure la luce Attenzione E sto pure abbassato E stai pure fermo E sto dietro Così il cuoco Qui l'inquietanza è incredibile Allora questo mi inquieta Però meno del Del calzolaio Ok Ok lui ha aperto la porta Seguilo Seguilo eh Eh che vuoi fare Seguilo Non abbiamo alternative purtroppo Oh mio dio Gli sei passato proprio davanti Che cosa sta tagliando È una carne Non ti fare domande La chiave Ecco la chiave Guarda dov'è Oh mio dio Ma forse Forse lo devi distrarre Passagli dietro Non lo so Sì Passagli sotto i mobili Ma lui la mangia cruda Che fa? Beh la carne cruda In realtà fa meno male E la carne cotta Solo che poi c'è i vermi Ma se la mette Vedi sotto Vedi che è una maschera O che si è allontanato No Quindi lui ogni tanto Si allontana E tu quando si allontana Devi prendere la chiave Non uscire Ok No si allontana Per troppo poco Sì infatti Non ci sarebbe il tempo Di salire Vabbè arrampicati a sinistra Ok E usciamo un attimino Dalla zona di pericolo No no Perché c'è la porta Ok Questo coso Se premi qua Che succede Ma io premo però Ma for muore Oh mio dio Oddio Oh no 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 Certo Per fare rumore Possiamo direttamente Attivare questo macinino Del carro Come questo volevo fare Forse non hai capito Volevo direi No non qua E come no Qui non ci vede Tu dici? Non ci prende Si confonde Ah è come se capisse Trova dietro Trova dietro Ok corri Corri Adesso 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 No E certo E' distratto Complimenti comunque a lei Che ci sta tre ore Per scendere No 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 mi hai consigliato Una cosa sbagliata A sto giro Attenzione perché Uh Si confonde subito Però non abbiamo Ottenuto niente Non abbiamo concluso Niente proprio Dobbiamo distrarlo Di nuovo E su Uh Guarda anche Sotto adesso Attenzione Ah No non guardare qui Non guardare qui Non guardare qui Ok sta tornando di là Sta tornando di là Ok corri corri Vai vai Raiden Dove che dobbiamo andare Qua 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 Ascensore Ascensore Perfetto Non so neanche io Ok Possiamo aprire la porta Oh mio dio Perché è ritornato Su l'ascensore Eh si sentono Di rumori Assolutamente Sospetti Oh cazzo Oh cazzo Nasconditi Nasconditi Ti stavo ancora inseguendo Questa cosa è bellissima Questa cosa è bellissima Questa cosa è bellissima Questa cosa è bellissima Vattene vattene faccia di plastica No Perché è andato di là Ora noi dobbiamo andare là Dobbiamo? E che dobbiamo fare Non vedo alternative No ma non possiamo Spingi la porta No è chiusa C'è la maniglia Ok Non ti incastrare Non ti incastrare Ok Siamo in una sorta di spazzatura Sempre con scarpe E' uno stura lavandini Sì Lo puoi afferrare? No Mi pare strano Stura lavandini Messo qua veramente Ma no Non lo afferra Ah c'è una 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 bambola In basso a sinistra Oh Non la vedevo proprio Prendila Buttila Uh l'ha rotta proprio contro Lo stura lavandini Eh però vedo Cioè per me è solo Lo stura lavandini È l'unica cosa con cui Niente Sì no ma non ne fa nulla Secondo me questo è un extra E questo è un extra Che però mi lascia spiezzato Perché come faccio a risalire E soprattutto Non mi dire che devo risalire Per favore No ma secondo me Ah ti devi arrampicare qua Sulla destra Sì avevo capito Che mi dovessi arrampicare In queste Non c'entriamo niente Allo stura lavandini Però no Oh ok Ok non devo risalire proprio lì Però qui sì secondo me Vediamo Mamma mia Io provo a procedere però Ok qua puoi risalire Ma ci sarà il tizio Ma devo Eh ma c'è il tizio Cosa sta facendo Ti vedrebbe Stai insaponando Stanno insaponando I piatti Stanno lavando i piatti Effettivamente Finora non hanno mai fatto niente Di veramente macabro Cioè hanno lavato i piatti Sono dei lavoratori Avvicinavano Facciano le bambole Facciano le scarpe Non facevano niente di Ok qui c'è una grata No niente di Noi stiamo facendo qualcosa di più No qua c'è la grata Mannaggia Ah Quindi o Esci fuori da qua O da quella prima Da qua ti vedono Vediamo Ma anche se mi vedessero Ti puoi nascondere subito Mi hanno visto di fatto Sì sì Ok proseguì Loro guarderanno qua sotto Ok 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 non so neanche io E neanche tu Cosa abbiamo fatto Guarda Guarda come danno Su tutte le Mi impazziscono Sì sì Vanno su tutte le furie No ti prego Non guardare sotto Don't look down please Ok Perché parli in inglese Non lo so Ogni tanto mi viene Guardano nei punti Ok Non ti muovere E no E invece sì Perché così qua Già ci hanno guardato Aspetta che vadano A sinistra E poi sali a premere Quella leva Però no Non è immediato Non capisci Che ti ho fatto da cazzo Io vado di qua Allora non vado da Spiricati Vattene Mamma mia Sono molto più intelligenti Di quello che siamo Cioè Cioè il gioco Il gioco ti dà Una profondità Abbastanza buona Dei nemici Una complessità Buona Non hanno un pattern Così ben definito Perlomeno Ce l'avranno pure Però Non si riesce a definirlo Una volta per tutte Ok Aspetta che quello Ora torna indietro Sì E dopo che torna indietro Io vado No Prima deve andare avanti Cioè deve tornare indietro Perché se no Ti vede o no Qua ti vedono Tutti e due Oh Giusto La grata Giusto E allora puoi andare Nell'altro grata Si sono caduto per sbaglio Adesso però Adesso Sto pensando Ma se io vado di qui Ah qua c'è una grata Forse da prima Non te ne sono grata Da qua E qua dall'altro Non dovrebbero proprio vedermi Ma non ci metto Proprio la mano Sul fuoco Ma neanche sul cuoco Ah tu dici Quella grondaia Quella Quel tubo di scarico Dovrei usare No Io pensavo I piatti La pila di piatti Che c'è Non ci sale Non ci sale Non ci sale Qua vai a destra Ok qua a destra Questa qua centrale Ok arrampicati su questo coso Ok bravo Oh mamma mia Mamma mamma mia Vedi io ho ragione Wow Eppure divertente Non lo so perché quelli ti hanno visto Mio dio Non mi hanno visto Ho capito Ma no Cambieranno la direzione della leva No speriamo di no Dai ormai siete da questo lato Cavolo Lasciate andare Oh Che momento pazzesco Corri 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 Dai Ok 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 corri Continuo a correre Mamma mia In profondità In profondità Salta 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 Oh mio dio Mamma mia che parte assurda Mi lanciano le bottiglie No ragazzi Questo qua è un applauso Qua è un applauso veramente fatto bene Fatto bene Questa parte è veramente bene Cosa Oh si è caduto Eh ma Però vedi che qui ti lanciavano le bottiglie Oh e siamo andati a completare La cucina Mamma mia ragazzi Bella questa parte Veramente bella Sì è veramente molto bella La migliore finora Sì Finora anche come A livello artistico Bene ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Puntata Ciao